video vendita strumenti elettronici specialmente del lice gloriosa fabbrica americana industria costruzioni elettromeccaniche qui abbiamo lice fatto per la beta l'automotive tester 50 euro visto e piaciuto questo non funziona qui abbiamo il tester 680r uno degli ultimi tipi questo funziona l'ultimo modello che era arrivato nel mercato 70 euro qui c'è uno dei modelli prima che fosse una quarta quinta generazione 40 euro sempre ic 680r qui invece c'erano i primi ic vedete modello 680c e 680e sono introvabili non se ne trovano più questi modelli dice qui che erano i primi modelli prima del 680r vedete li cedo a 50 euro cada uno qui c'è un rarissimo transistor test del lice modello 662 mai visto in 30 anni e sono riuscito a trovarne uno 80 euro qui c'è la ampere test del lice 45 euro invece qui c'è l'amper clamp quella che va messa collegata al tester 680r o questa serie qui 40 euro qui invece c'è un simpson americano ma di nusa ancora mi sembra in bachelite 120 euro un bellissimo tester vintage della triplet che fosse degli anni 40 guardate come bello di sicuro questi non se ne trovano più se uno vuole fare un po di collezione è un pezzo da non perdere 80 euro un tester della signal corp signal corp americana militare guardate che bellino signal corp americana 50 euro poi qui abbiamo il dove è scritto il nome non c'è scritto il nome comunque questo bellissimo tester 50 euro qui abbiamo il rank xerox ricordate quelli che fanno i fotocopiatori un altro bellissimo tester 30 euro tutti i tester d'epoca e qui tanti se lo ricorderanno ancora electro tester miselco vi ricordate che era nelle fiere dell'elettronica a vendere le strumentazioni miselco 30 euro che spettacolo una serie di tester da non perdere ciao a tutti